Finisce il posticipo fra Inter e Napoli 0-0 Pareggio ottimo ragazzi, pareggio ottimo Anche perché questa sera si è rivista una bella Inter Si è rivista un'Inter tosta, un'Inter cattiva, un'Inter che ci provava Quindi io sono felicissimo Poi se guardiamo a livello di classifica Comunque siamo a un punto dalla Lazio con una partita in meno noi E mi sembra 5 punti dalla Roma sempre con una partita in meno noi È vero che comunque il Milan è arrivato a meno 5 E questa cosa un po' preoccupa tutti noi Perché da meno 16 è arrivato a meno 5 Comunque ci sarà il derby da recuperare Se loro vincono andranno a meno 2 Se noi vinciamo li rispediamo a meno 8 Quindi ancora i giochi sono completamente aperti È vero che noi la prossima andiamo a Genova contro la Samp E loro hanno in casa il Chievo Ma il campionato è lunghissimo e ci sarà ancora tanto da dire Soprattutto se giocherà un Inter come questa sera Un'Inter cattiva e grintosa Purtroppo, e dico purtroppo Puntualmente ogni volta Quando stiamo per raggiungere l'obiettivo Cioè il gol arriva il palo Puntualmente Siamo la prima squadra d'Italia a livello di pali Abbiamo superato la Roma Tutte quante Siamo i primi Almeno lì siamo primi I primi in Italia A livello di pali È incredibile questa cosa Cioè veramente Quando ho visto quel palo di Skriniar È partita Un qualcosa verso qualcuno Che non dico niente Vabbè Comunque A parte questa cosa Sono felice Sono molto contento Sentite i rumori di sottofondo È la pioggia che sta cadendo Perché sono nella macchina Sono contento Anche voi dovete essere contenti È vero che Spalletti Forse qualche cambio Doveva farlo prima Tipo le varie Perisic Che veramente ragazzi Non so cosa sta accadendo A Perisic Sono i milanisti Ci lamentano di Suso Che sarà tre partite Che sta giocando male Noi Perisic C'è quattro mesi Che gioca male Tre barra quattro mesi Che sta facendo Schifo Perisic sta facendo schifo Dal tre dicembre Quindi fate voi Un calcolo quanto è Dal tre dicembre Che Perisic sta facendo pena Penoso Primo tempo indegno Secondo tempo C'è un po' ripreso Ma ugualmente Insufficiente Poi è entrato Eder Puntualmente anche Eder Ragazzi fa Non è un giocatore Che può giocare nell'Inter Parliamoci chiaro Come riserva forse Ma non può giocare nell'Inter Dai un giocatore Che ti fa bene due partite Poi sparisce per altre partite Tipo un Brozovic Che questa sera Ha fatto paura Ma un bel Brozovic Lo rivedremo a fine stagione Se va bene Le ultime due partite L'ultima partita Perché è così Per poi è entrato Caramò Per due minuti Tre minuti alla fine Non lo posso nemmeno giudicare Due tre minuti Icardi ha fatto qualche sponda Non ha giocato malissimo Ha corso tantissimo Rafigno uguale Borca quando è entrato Ha fatto molto bene Sono contento anche di Borca Anche perché non era semplice Ragazzi Visto la situazione di Astori Quindi Tanti applausi per Borca Valero Che è entrato benissimo Andano Vicente Ogni tanto si addormenta C'ha i piedi quadrati Però vabbè Ce sta D'Ambrosio fa sempre il suo Skriniar è un muro ragazzi Skriniar è veramente Un muro E non si può dire niente A Skriniar Fossero 11 Skriniar in campo Eravamo prima in classifica Sicuramente Miranda Ottimo Qualche errore Ma proprio leggero Cansello ragazzi È fortissimo Tranne che qualche volta Si Si sa cosa vuole fare Quei dribbling Perché è troppo sicuro Delle sue potenzialità E infatti sbaglia Sbaglia Ha sbagliato anche in partita Comunque per il resto Pareggio giusto Perché il Napoli Ha avuto le sue occasioni Noi abbiamo avuto le nostre Forse loro un tantino di più Però sono state sparate Per aria Noi invece abbiamo preso Un palo C'ha miseria Quel palo Se entrava ragazzi Questa sarebbe stata Una vittoria Che avrebbe fatto Proprio gioire Milioni di tifosi Però vabbè Ci accettiamo questo pareggio E andiamo a giocarci La Champions Anca Genova Contro la Samp Che sarà infuriata Visto che oggi ha preso Quattro gol Dal Crotone Per carità Crotone Una bella squadra Però quattro gol Dal Crotone Puntualmente Ci giochiamo noi contro Quando sono infuriati Ci sta Perfetto Vabbè Speriamo per la prossima partita Il Milan c'è il Chievo La Lazio Mi sembra il Bologna La Roma il Crotone Non mi vorrei sbagliare Mi sembra di sì Però dopo la partita dopo C'è la Sosta Che palle Noi abbiamo il Verona Che sarò A Inter Verona Ragazzi Segnatelo Chi c'è di voi Sarò a Inter Verona E il Milan La Juventus Il La Roma Non mi ricordo chi Tanto questa comincia a piove forte Quindi vi saluto Se altrimenti non si sente niente Qui da Sommati è tutto Lasciate un mi piace Un commento Di iscrizione al canale Iscrivetevi raga Cliccate il tasto iscriviti Arriviamo a questi 10.000 Iscriviti Cliccatelo Qui da Sommati è tutto Bella